Ciao a tutti, mi chiamo Leonid. Vi invito al mio canale Batumi, il miglior resort della Georgia. Sul mio canale troverete informazioni sui massaggi professionali, sugli hotel di Batumi, sulle escursioni in Georgia, sui prezzi di vitto e alloggio e molto altro ancora. Inoltre, nella pagina principale del canale e sotto questo video vedrete un link al mio sito web vacanze a Batumi. Su questo sito, se è una pagina, guadagni sulle reti neurali. In questa pagina è possibile imparare a utilizzare diverse reti neurali e a guadagnare con esse. Reti neurali e guadagnare con esse. Questa è la tendenza al guadagno per i prossimi anni. Non sprecate il vostro tempo. Durante le vostre vacanze potrete non solo rilassarvi, ma anche guadagnare una discreta somma di denaro. Iscriviti al mio canale, lasciatemi dei like e lasciate dei commenti. Questo aiuterà a promuovere il mio canale. Ci vediamo sul canale.